Signor Presidente, fornisco innanzitutto la ricostruzione dei fatti sui quali è incentrata l'interrogazione degli onorevoli Costantino e di altri colleghi. Cioè verso le 6 del mattino del 10 di giugno, nei pressi del centro di accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, circa 150 ospiti hanno inscenato un'improvvisa protesta per il pagamento mancato del pocket money, occupando la sede stradale in via Tiberina e bloccando il traffico veicolare. L'opera di convincimento posta in essere per persuadere i manifestanti a consentire il ripristino della normale circolazione stradale si è rivelata inutile rendendo necessario l'intervento degli operatori di polizia anche a causa dell'evidente disagio che andava montando tra gli automobilisti a cui veniva impedito di proseguire. Da tale intervento è scaturita una situazione di concitazione concretatasi anche nella reazione di alcuni manifestanti verso l'operato delle forze di polizia rivolto esclusivamente a rimuovere il blocco stradale. Ciò ha portato all'arresto di tre cittadini extracomunitari, tra i quali il promotore della manifestazione per il reato di resistenza e violenza pubblico ufficiale. Dopo essere rientrati nel centro di accoglienza, gli ospiti si sono rinchiusi all'interno della struttura dando vita anche a forme di protesta violenta senza consentire l'accesso al personale della società Auxilium a cui è affidata la gestione del centro, ad eccezione del personale medico. Vorrei precisare che in questa fase, come hanno riportato anche gli organi di stampa, i manifestanti non sono stati sottoposti ad alcuna forma di pressione o di controllo da parte delle forze di polizia. Inoltre è sempre stato possibile durante l'intera giornata il libero accesso alla struttura di esponenti del mondo politico, il cui intervento si è reso particolarmente utile, avendo avuto modo di interloquire con i manifestanti e contribuendo così a stemperare il clima di tensione. La richiesta di poter avere un colloquio con i funzionari della Prefettura è stata soddisfatta solo quando è cessata la protesta ed è stato reso agibile il centro. Il successivo 12 giugno, infatti, normalizzatasi la situazione, ha avuto luogo una riunione tra i rappresentanti degli ospiti, funzionari della Prefettura e della Questura di Roma e il direttore del centro. In quell'occasione sono state fornite le assicurazioni circa l'impegno della stessa Prefettura a ricercare possibili soluzioni alle istanze avanzate sul rilascio di carte prepagate e a dare anche attenzione al miglioramento della qualità degli ambienti e dei servizi. In conclusione, dalla ricostruzione dei fatti non emergono, non sembrano emergere elementi tali da fare ipotizzare una condotta delle forze di polizia contraria alla legge o che abbia violato moduli operativi ispirati a criteri di equilibrio e prudenza e da inquadrare in un contesto di ripristino dell'ordine pubblico.